Cepace Vienko Reinhardt Ahi Reinhardt Lavoro Anzi Lavoro E Gre statements Parliamo di lavoro. Alzi la mano chi di voi ha cambiato lavoro nel corso dell'ultimo anno. Beh, vedo un po' di mani alzate. sabbiate che non siete soli perché come voi 550 mila persone hanno lasciato volontariamente il loro lavoro solo nel corso dell'ultimo trimestre del 2021 con numeri record e mai rilevati prima è quel fenomeno che prende il nome di grandi dimissioni forse ne avete sentito parlare studi ricerche stanno cercando di definire l'identikit di queste persone che decidono di lasciare il loro lavoro comprenderne le cause scoprendo che si tratta in realtà di un fenomeno piuttosto trasversale in termini di età genere professioni c'è chi decide di lasciare il proprio lavoro per cercare un lavoro un po più stimolante chi lascia ambienti di lavoro che potremmo definire tossici dove ci sono cattive relazioni di lavoro chi cerca lavori un po meno stressanti sicuramente in un qualche modo ci ritorna alla mente quell'acronimo IOLO you only live once e quindi avere maggiore consapevolezza del fatto che le nostre scelte di vita sono fortemente intersecate con le nostre scelte lavorative se non sappiamo ancora molte cose sulle grandi dimissioni quello che sappiamo per certo è che una delle tante conseguenze del covid la pandemia ha cambiato il nostro concetto di ufficio il nostro concetto di tempo di lavoro il nostro concetto di come lavoriamo con quali strumenti andiamo a lavorare ma soprattutto ha cambiato il significato e l'importanza che assegniamo al lavoro nella nostra vita in altre parole come interpretiamo la nostra carriera lavorativa se come hanno fatto alcuni speaker che mi hanno preceduto vi chiedessi di chiudere per un attimo gli occhi e pensare a un'immagine la prima che vi viene in mente quando sentite l'espressione fare carriera sono sicura che molti di voi penserebbero a un'immagine simile a questa una scala carriera deriva dal provenzale e indicava quella parte della strada che era dedicata alle corse dove i carri erano trainati dai cavalli quindi un percorso fisso e predeterminato e pensate che noi usiamo la stessa identica parola per parlare della nostra vita lavorativa quindi un percorso che ha un unico punto di arrivo che chiamiamo successo che prevede una sola direzione di mobilità verticale e che non prevede deviazioni perché ogni gradino segue ordinatamente quello precedente questa idea di carriera deriva in realtà da modelli di gestione delle aziende del personale che sono vecchi di oltre un secolo ma ha una forza evocativa ancora molto importante e nonostante questo sono sicura che rappresenti solamente una piccola minoranza dei percorsi professionali vostri che vivete quotidianamente ma allora di che mobilità lavorativa ha senso parlare oggi nel 2022 in un periodo post pandemico in un periodo di trasformazioni digitali di un'attenzione maggiore alle dimensioni etiche e di sostenibilità del lavoro cominciamo dalla fine dal punto di arrivo il successo per comprendere cosa significhi per ciascuno di noi il successo vi chiederei di provare a terminare questa frase sarò soddisfatto o soddisfatta della mia carriera quando magari non l'ho fatta adesso potete pensarci ma vi chiedo di portare questa frase con voi con un gruppo internazionale di ricercatori abbiamo chiesto di concludere questa frase a oltre 18 mila persone in 30 paesi scoprendo tante differenze collegate alla cultura ai diversi livelli di sviluppo economico e sociale dei paesi ma anche tante similarità dalla nostra ricerca sono immersi innanzitutto i significati più tradizionali di successo quindi ottenere tante promozioni e avere un buono stipendio per altre persone però avere successo ha a che fare con il proprio sviluppo professionale quindi avere un lavoro nel quale si impara continuamente o nel quale si possono realizzare progetti ad esempio anche una propria impresa per altre persone avere successo invece ha a che fare con il proprio ruolo sociale quindi trovare un equilibrio ad esempio tra le proprie identità multiple perché io sono una lavoratrice ma sono anche una figlia una sorella un'amica e quindi ci sono tutte queste mie identità che devono essere presenti sul luogo di lavoro per altre ancora avere successo significa avere buone relazioni sul lavoro essere apprezzati dai propri responsabili e dai propri colleghi per altre ancora avere successo significa avere un lavoro attraverso il quale si può fare qualcosa per gli altri e magari provare a cambiare la società nella sua interezza abbiamo quindi sfatato il primo mito relativo alla carriera intesa come una scala il punto di arrivo non è unico ma è diverso per ciascuno di noi e cambia nel corso del tempo per questo motivo è importante portare con sé questa frase e magari utilizzarla un po come una bussola professionale nel momento in cui decidiamo di dare una svolta alla nostra carriera perché i nostri cambiamenti non siano tanto dettati dal lasciare qualcosa che non ci piace ma piuttosto dall'andare verso qualcosa che desideriamo altrimenti sarebbe un po come guidare un'automobile guardando nello specchietto retrovisore anziché davanti a voi la seconda caratteristica della scala è che prevede una sola dimensione di crescita cioè verticale raramente però le nostre carriere sono unidirezionali nel senso che molti di voi avranno fatto passaggi orizzontali all'interno della stessa azienda avranno cambiato azienda e area avranno magari avuto dei lavori in cui crescevano in termini di responsabilità rimanendo nella stessa posizione oppure saranno usciti da un'azienda per poi rientrarvi successivamente in un'altra posizione ancora oltre a non essere unidirezionale la nostra carriera non è neanche unidimensionale cioè non è fatta solamente di esperienze lavorative perché tutto quello che noi facciamo lavorativo e no va a costruire quell'insieme di conoscenze relazioni e motivazioni che definiscono il nostro percorso professionale quando alla radio o in internet ascoltiamo un webinar sulla leadership oppure organizziamo la vacanza per per nostro figlio stiamo acquisendo conoscenze di leadership appunto e sviluppando competenze di pianificazione che potrebbero esserci utili sul lavoro quando partecipiamo a un TEDx quando facciamo un viaggio con delle persone sviluppiamo delle relazioni che potranno esserci utili per cambiare il nostro lavoro in tutte le occasioni che vi ho appena elencato stiamo facendo che cosa stiamo prendendo consapevolezza delle nostre competenze delle nostre aspettative e quindi implicitamente ci poniamo nuovamente la domanda sul nostro obiettivo professionale abbiamo quindi sfatato il secondo mito relativo alla scala fare carriera non significa solo andare verso l'alto ma andare verso il nostro obiettivo con tutte le pause le interruzioni i cambi di direzione che sono tipici di un percorso nel quale non controlliamo tutto e non possiamo prevedere tutto se questo è vero capite che più che la scala che vi ho mostrato prima la nostra carriera assomiglierà a una scala più come questa qui la terza caratteristica della scala è la sequenza di gradini per salire sul gradino successivo deve essere passato sui gradini precedenti riportato al mondo del lavoro questo significa che le nostre possibilità future dipendono dalle nostre possibilità ai nostri lavori presenti e passati è il modello dello specialismo della crescita verticale all'interno di una certa area di professionalità nella quale noi siamo esperti è quello che accade quando un giovane si lauree in economia va a lavorare magari nell'area commerciale di un'azienda farmaceutica dopo un po di anni decide di cambiare lavoro e cosa cercherà probabilmente cercherà un lavoro nello stesso settore nella stessa area per fare che cosa per sfruttare le competenze che ha accumulato le esperienze che ha sviluppato nella prima esperienza di lavoro e così via nel corso del tempo tanto che la scala diventa una gabbia professionale sempre più stretta potremmo chiederci se questo modello sarà quello vincente anche in futuro secondo l'ultimo report del world economic forum proprio sul futuro del lavoro il 40 per cento delle competenze che oggi consideriamo fondamentali sul nostro lavoro saranno obsolete nel 2025 da tre anni se questo è vero il suggerimento è quello di sviluppare il nostro percorso di carriera non tanto come una i ma piuttosto come una t dove la parte verticale della i è la nostra area di specializzazione mentre la parte orizzontale della t sono un insieme di competenze trasversali di comunicazione di gestione di progetti che ad esempio potrebbero esserci utili per parlare con altre persone in azienda o per muoverci in altre aree di specializzazione in futuro e così abbiamo sfatato anche il terzo mito relativo alla scala fare carriera non è un percorso unico in cui il passato predice il futuro ma piuttosto è un insieme di tanti brevi cicli di apprendimento in cui in ogni esperienza professionale impariamo qualcosa di nuovo e questo aumenta le nostre competenze e ci apre nuove possibilità in futuro parlare di lavoro e carriera oggi significa quindi confrontarsi con una molteplicità di percorsi che non possono essere ridotti a delle i delle t oppure all'immagine di una scala potremmo piuttosto parlare di un alfabeto professionale in cui ciascuno di noi può riconoscersi in una lettera o potrebbe costruire la propria lettera che rappresenta il percorso che vuole seguire per raggiungere il proprio obiettivo di carriera magari con questo alfabeto professionale può trovare la propria personale risposta alla domanda sarò soddisfatto soddisfatta della mia carriera tra quando? grazie 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 grazie